buongiorno è finita la pacchia si torna a lavorare io sono già ciao sono già qui oggi è una giornata veramente veramente particolare gireremo il la presigla e però non posso costare niente però sarà veramente una cosa molto divertente quando la vedrete e basta sono tornata a casa da carpineto sono riuscita a passare dalla banca fare la spesa tornare a mettere a posto salutare leonora e adesso sono venuta a lavorare e sono veramente più stanca di prima però sono stati due giorni veramente belli in campagna si stava così bene con i ragazzi con fabio che è tornato ma che adesso deve ripartire e speriamo che resti in germania il più possibile e quindi niente io vado a lavorare stasera me ne torno a casa e poi domani torno di nuovo in campagna venerdì sera per il per il weekend basta tanti baci a tutti benedetta parodi ha concluso le sue vacanze estive dopo un periodo trascorso in sardegna e un soggiorno nella sua casa in campagna in italia con la fine delle ferie ha ripreso a girare le nuove puntate del suo programma di cucina che andranno in onda a settembre nonostante gli impegni lavorativi benedetta ha trovato il tempo per dedicarsi a varie attività personali domani ripartirà per tornare in campagna dove si riunirà con la famiglia la celebre conduttrice è pronta a bilanciare il lavoro con i momenti di relax in compagnia dei suoi cari dimostrando ancora una volta la sua capacità di gestire con successo la vita professionale e privata